La terza edizione del trofeo Green Golf Academy di ringraziare la Green Golf Academy e ringraziare queste persone per l'impegno e per la professionalità e anche per l'ingegno che ci mettono. Io ringrazio a nome della Green Golf tutti voi perché siete stati tantissimi e siete sempre di più e quindi siamo felici che siete affezionati a noi e in questo caso alla nostra gara. Nella serata di sabato le premiazioni al Circolo Villa d'Este. Mario Molteni si è in posto tra i Super Signores. Guglielmo Minuzzo ha conquistato il primo posto tra gli Juniors. Vittoria tra le Signore per Claudia Stoppani. Per la terza, seconda e prima categoria i vincitori sono rispettivamente Carlos Preafico, Roberto Cassani e Federico Cornelio. Il primo premio lordo è andato invece a Edoardo Marelli. Per la terza, seconda e prima categoria i vincitori sono rispettivamente